Musica Urlare in coro il diritto negato, quello allo studio. Il liceo scientifico Mancini affila le armi e si prepara a vivere un'altra settimana di manifestazioni, incontri e sit-in di protesta. L'obiettivo è quello di tenere alta l'attenzione sulle problematiche a cui il sequestro da parte della procura della sede di Via dei Concili li ha obbligati ad affrontare. Chi sta avvenendo meno alle proprie responsabilità invece, secondo le parti lese di questa storia, studenti, genitori e docenti, sono le istituzioni. Finora dagli incontri in provincia non è emerso nulla di rilevante se non la obbligatorietà dei doppi turni. Ipotesi questa rispedita al mittente da ragazzi, genitori e docenti, così come quella dello spezzatino. Manifestazioni ed assemblee dei genitori sono state indirizzate proprio in questa direzione, sede unica ed appropriata per l'offerta didattico-formativa del popolo del Mancini. In sintesi, questo è il messaggio lanciato in un documento scritto e sottoscritto dai docenti dell'Istituto Secondario Superiore. Da un lato i docenti hanno messo in evidenza il senso di disorientamento della popolazione scolastica nell'impossibilità di svolgere le attività didattiche d'extra, vivendo sulla propria pelle la sottovalutazione di un problema che potrebbe mettere a rischio la formazione dei ragazzi e il loro stesso futuro. Dall'altro l'insostenibilità delle soluzioni finora appaventate. Concetti che saranno ribaditi lunedì mattina alle ore 9 durante la manifestazione che partirà dal Mancini e proseguirà per le vie del centro. Un esercito di circa 4.000 persone riversato per le strade di Avellino perché quello del Mancini è un problema che riguarda tutte le scuole del capoluogo. Intanto sul fronte didattico il liceo, in seguito al perdurare dello stato di emergenza, riprende anche se parzialmente le attività didattiche per garantire agli allievi una continuità pur nelle difficoltà logistiche. A partire sempre da lunedì 13 novembre le lezioni riprenderanno in forma ridotta nelle aule del plesso ex imbriani. Le 8 quinte manterranno il loro calendario senza turnazioni, le altre classi saranno divise in due turni. Dalle 8.15 alle 10.45 le classi osserveranno l'orario attualmente in vigore relativo alle prime tre ore del giorno. Nel secondo turno, dalle 11 alle 13.30, le classi osserveranno l'orario attualmente in vigore relativo alla terza, quarta e quinta ora del giorno a partire dalle ore 11.